Allora, Miranda il biomedicale è nato qua dentro, in questi locali che lei vede, perché un amico che faceva soluzioni per infusione a Firenze mi disse che doveva importare dall'estero dei tubi di plastica per infondere soluzioni venose per fleboclisi. Allora io ci pensai un attimo e poi facci un giro negli ospedali, ho accertato negli ospedali che conoscevo questo mercato, esisteva questo mercato e io mi sono messo qua dentro comprando i tubi da una parte e i connettori facendoli fare in un'officina di carpi e cominciai a presentarmi sul mercato con questi tubi, si chiamavano infusion, transfusion set, che servivano appunto per trasfondere o liquidi iniettabili o sangue. Se il cliente aveva bisogno di un modello particolare, noi glielo facevamo.